Ah! Pagan! Ma come cazzo ti vesti? E perché quei capelli? Ma poi le giacche! Vogliamo parlare nelle scarpe? Eh! Davvero di aboli con quella montagna di soldi! Puoi permetterti quello che vuoi! E invece sembra che hai fatto acquisti nell'outlet dei cattivi spiegati! Ok? Pagan, ascoltami da uomo a uomo! Questa stiglia che stai provando non funziona! Non vuoi un consiglio di internet? Ok? Un po' di tutto di pescino e accendi un pianifico! effettivamente 10ти fatemi capire il risultato poi! Sbagliamo la musica! 2. 3. 3. 3. 6. 5. 4. 7. Grazie.